Qui ci troviamo sui costoni del Librafetto, la montagna davanti al cerchetto, davanti a noi, via per capirci. Siamo piuttosto alti, io come al solito sono quello attrezzato con lo zaire e con la conoscenza di tutti questi posti. C'è un osservatorio che è il Monte Cimone, abbastanza lontano ma come linea appenninica decisamente vicino. E qui questo è un bel video, ripeto. Paolo